Non l'ugli per consentire a molti compagni e compagni di fratturità. Maurizio Scarpa, te lo chiede. Il portavoce che però oggi per fortuna smette il suo mangiare il portavoce, che è grazie a noi che si tratta definitivamente la nozione di una strutturazione organizzata. Per quanto riguarda le relazioni, no, compagni e compagni, però alcune brevi noti non sono tive, per ricordare a tutti noi quello che abbiamo fatto, quanto è scaduto e quello che ci proponiamo.